Il sindaco Ignazio Abate, che è ex sindaco Ignazio Abate, che secondo gli osservatori, come si suol dire, avrebbe delle buone chance per poter essere eletto deputato regionale. Lui ne ha parlato, è chiaro che non si vende l'orso se non hai già la pelle nel sacco, insomma, quindi non bisogna così esagerare, però è convinto di avere buone chance. E così probabilmente è. Però ecco, voglio fare un discorso perché ieri domenica mi è capitato di andare a Modica e devo dire la verità, c'era un casino pazzesco. Cioè, la Vicorzo Umberto, con le macchine che camminavano, piano, il trenino, i pullman, un casino, un casino incredibile. Però questo si vedeva che era la vita di una città. Cioè, il centro storico di Modica, con tutto il casino, però era vivo. C'era turisti che camminavano, la degustazione, il trenino, la gente di Modica che si faceva la passeggiata. Quel pezzettino di Corzo Umberto davanti a San Pietro era davvero particolarmente vissuto. Questo fa un bel effetto alle persone, ai turisti. Fa un bel effetto. Veniamo a parlare di Ibla. Ora, voi sapete che c'è questa polemica sulle ZTL, cioè sul controllo del centro storico con le telecamere. Io allora mi chiedo, ma a Modica come sono? Io vorrei capire questo, perché a Modica, a parte Corzo Umberto, che è un pochino più grande, ma tutte straduzze e vivuzze su. E allora, se a Modica riescono in un certo modo a sopportare questo traffico che però fa economia, c'è una cosa, perché insistiamo nell'esagerare nella chiusura? Perché io la chiusura la considero essenziale. Ma ora, le telecamere, vai, appena entri ti faccio la multa se non eri tu. Ora, che Ibla abbia un suo fascino proprio perché non ci sono le macchine. E io posso anche essere d'accordo, ora non so se la macchina è preferibile al fatto che ci sono 5.000 ristoranti, che praticamente Ibla è diventata tutto un ristorante, si sono presi tutti gli spazi possibili e immaginabili con i tavolini e forse, probabilmente, là si è un po' esagerato. Ora, come Ibleo, il comitato Ibleo, in verità ha lanciato un messaggio all'amministrazione e gli ha detto facciamo gli aggiustamenti, però è una cosa che a noi alla fine piace. Ha fatto capire questo, lì dobbiamo fare, non ci sono i segnali per i motorini, non abbiamo capito questo, non abbiamo capito quello, però credo che alla fine quelli di come Ibleo gli piace che a Ibla si possa entrare sempre meno e che possano stare a Ibla tranquilli i residenti. Perché come Ibleo è soprattutto fatto da residenti. Quindi lo comprendiamo, lo capiamo, ma dobbiamo anche renderci conto che ci sono i pro e i contro. Va bene blindare la città, ma poi va bene a tutti questo? Conviene a tutti? Non lo so, è una cosa che dovremmo capire. Cambiamo argomento e torniamo a sabato, perché sabato a Donna Lucata c'è stata la presentazione dell'edizione 2022 della Sagra della Seppia. tu dici perché guardate tempo con le sagre? Invece vi devo dire che la Sagra della Seppia è un avvenimento ricercatissimo. Cioè la gente viene da tante parti proprio per poter andare a inizio d'estate, perché siamo al 12 di maggio, a inizio d'estate a degustare queste straordinarie pietanze. Perché guardate, l'arancina al nero di seppia, la focaccia, non so come si ama l'impanata con dentro gli spaghetti e la seppia, che io non ho mai mangiato, mi ha sempre fatto un po' di impressione questo spaghetto nella focaccia, però devo dire la verità era molto buono. Quindi effettivamente il fatto che queste pietanze siano buone, che ci siano delle offerte speciali come prezzo per avere un menù completo, magari viene una famiglia, paga 20 Euro e mangia primo o secondo dolce e vino, in una sagra è anche abbastanza interessante. Noi abbiamo fatto questa intervista con l'assessore del comune di Scigli e Gianni Voi che ci spiega come si svolge la manifestazione.